100 o 200 euro per aiutare gli anziani, travolti dalle bollette schizzate alle stelle. Una donazione dai fiorentini, privati o aziende, per aiutare i 20-30 mila over 65 che vivono soli o hanno pensioni minime e con le utenze quadruplicate rischiano ora di trovarsi nei guai, magari costretti a rinunciare al riscaldamento o a fare la spesa. Di fronte alla tempesta sociale del caro bollette, Palazzo Vecchio prepara la controoffensiva. Non si tratta di stanziamenti diretti, lo stesso comune è già travolto dall'impennata dei costi che potrebbero valere qualcosa come 40 milioni solo per gli uffici e le sedi. La risposta è una chiamata alla solidarietà, una massiccia campagna per aiutare la fascia di popolazione più debole alle prese con gli aumenti della luce e del gas. Per donare, Liban intestato alla Fondazione Montedomini è IT 22 L 0 33 5 9 0 1 6 0 0 1 0 0 0 0 1 4 1 3 0 9 Causale adotta una bolletta.